Ciao ragazzi, sono Andrea dell'Agenda Scolastica Comics. Vi invito tutti a partecipare ai Comics Games 2013. Giocheremo con le parole e con l'umorismo insieme agli amici del Salone di Libro di Torino e a Repubblica Scuola. Vi sfiderete singolarmente o per classi a suoni di acrostici, lipogrammi, tautogrammi e altre diavolerie linguistiche molto divertenti che poi vi andrò a spiegare. Partecipare è semplicissimo. Basta un po' di entusiasmo e l'iscrizione gratuita al sito di Repubblica Scuola. In premio, oltre a tantissimi prodotti Comics, la partecipazione con tutta la classe al Salone del Libro di Torino, a maggio, nella grandissima finale. Vi assicuro che ci divertiremo. Si comincia il 19 novembre. Save the date! Tutte le altre informazioni le trovate nel regolamento. Non mi resta che farvi un grande bocca al lupo e benvenuti ai Comics Games 2013.